Le risposte devono essere più immediate, più pronte, più rapide. Bisogna, credo, organizzare diversamente la reazione. Che queste terre non siano abbandonate a se stesse, ma dove la presenza dello Stato si deve far sentire. Questo è non solo un auguri, ma anche una fortissima speranza, che da cittadino soprattutto, e da uomo delle istituzioni è necessario fare. Il procuratore di Lucera, Domenico Seccia, da Cerignola, dove ha presentato il libro La mafia innominabile, chiede sostegno dallo Stato. Al centro del volume, edito dalla Meridiana, la mafia garganica, sanguinosa, crudele, concentrata soltanto a far crescere se stessa. Da San Nicandro Garganico a Vieste a Monte Sant'Angelo, non solo la storia della mafia in questione, ma un libro di storie, quelle di chi la mafia la nutra e di chi la subisce. Il libro di Seccia racconta tra gli altri dei Libergolis, degli Alfieri, dei Primosa, dei Ciavarelli ed è testimone di quanto accade in territori spesso abbandonati. Secondo Seccia, le procure territoriali e la procura antimafia devono darsi un'organizzazione di più ampio respiro, perché queste organizzazioni criminali sono volatili. Non si conoscono quanti siano, in quanti le compongono, quale sia l'attività di base. Io penso che i protocolli investigativi, i moduli e gli schemi vadano un po' ripensati.